La facciata della chiesa di Sant'Agostino è illuminata con due corpi luminosi per esaltarne la bellezza storica artistica, un'iniziativa resa possibile grazie al Rotary Castelli Svevi di Andria e dal liceo scientifico Nuzzi, esempio di collaborazione al servizio della città per riscoprire alcune delle sue bellezze più belle, spesso dimenticate o come nel caso della chiesa di Sant'Agostino, abbandonate all'oscurità. Il progetto è stato fortemente voluto dalla past president del Rotary Andriese, Francesca Caterino Ieva, prezioso l'apporto del liceo Nuzzi tramite il gruppo di lavoro di Explorandria, app fondata dal liceo scientifico con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio storico-culturale nella città federiciana e questo è il connubio che ha avviato e poi realizzato concretamente il progetto Luci su Sant'Agostino. C'è la luce che illumina e dietro questa luce però c'è tutto un percorso dell'anima che ci ha visto lavorare insieme, che ci ha visto uniti, al di là delle differenze, lavorare, fare comunità, vivere comunità e lasciare un segno. Questo segno che è cominciato dalla bellissima app di Explorandria e si conclude, ma spero non sia l'unico, ma che possa continuare con questa luce. Questa luce che ci invita a soffermarci, a cogliere il bello che ci circonda, a guardare in alto, ma anche ad entrare per riflettere e per riflettere su quella che è la nostra storia, la nostra identità che deve rimanere forte. Un esempio vincente di sinergia tra la scuola e la realtà dell'associazionismo per lo sviluppo della comunità cittadina. Il senso è proprio questo, il lavoro di rete, il lavoro del prendersi cura della comunità attraverso l'educazione, quindi da parte degli adulti questo, da parte dei ragazzi, seguire step by step proprio un itinerario che ci portava attraverso l'arte, attraverso la cultura, anche alla presa di coscienza di ciò che si può migliorare, perché accanto all'arte, accanto alla cultura c'è tanto che l'uomo nel frattempo, nella storia, ha in un certo senso rovinato e quindi l'esigenza di fare qualcosa. Realizzato attorno al 1400 in stile gotico, raffigurante motivi floreali che fanno parte di un antico alfabeto che utilizzava immagini di piante ed erbe per comunicare, il portale di Sant'Agostino torna a rivivere con nuove luci, studiate appositamente per le sue caratteristiche, un'opera che racchiude elementi di immenso valore artistico e culturale. La bellezza va riscoperta, quindi ecco questa luce sulla facciata e sul portale ci aiuta a riscoprire la bellezza non solo della pietra, ma di coloro i quali hanno voluto tramite la pietra lasciare un segno di bellezza spirituale, perché il portale ci rimanda al Cristo e alla dignità nostra battesimale di essere anche noi entrati in Cristo a far parte della vita divina. Ma anche della bellezza della cultura, della bellezza della vita sociale, della bellezza delle relazioni.